ciao ragazzi di social in tech benvenuti in questa nuova video recensione oggi vi parleremo di tre prodotti anche se qui ne vedete quattro ma due sono uguali della marca just mobile una marca che abbiamo già avuto modo di recensire nel nostro blog e che sicuramente vi interesserà parecchio perché sono prodotti utilissimi ma anche di qualità ad un prezzo buono vediamoli più da vicino i tre prodotti quattro che avete qui davanti sono prodotti che possono essere utilizzati ovviamente per più dispositivi in questo caso abbiamo partendo dal più piccolo quello che è un supporto per auto per i nostri iphone o per comunque qualsiasi smartphone con una praticità nell'essere veramente leggero però che tiene molto bene il vostro dispositivo e allo stesso tempo ha un angolo di ruotazione veramente alto da questa parte abbiamo l'alu charge ossia come può anche indicarvi il nome è un caricatore un caricatore che va attaccato a corrente e alla possibilità con varie porte di poter attaccare tutti i vari cavi usb col quale darà ovviamente energia da questa parte invece abbiamo i due gemellini i due gemellini che sono gli headstand avant in questo caso sono due prodotti che vanno ad aggiornare quello che vi era antecedentemente che era un pochino di design un po più classico invece questi sono già un pochino più futuristici e abbiamo come potete osservare la versione nera e la versione grigia eccoci qui ragazzi con i prodotti già scartati e già anche quasi montati ma inizierei subito da quello che è il stand vent ossia lo stand il supporto per auto un supporto che è sicuramente molto leggero che ha una grandissima angolazione quindi grandezza per quanto riguarda la capacità dei prodotti che possono inserirsi abbiamo dei gommini qua che vanno a proteggere il dispositivo sia per quanto riguarda il fatto di essere chiuso da questa morsa ma dall'altra parte anche questa specie di gommino con una rientranza che dà modo così al prodotto di essere ben catturato e di non scappare in avanti da questa parte abbiamo ovviamente di dietro quella che è i dentini che vanno ad agganciarsi all'interno della bocchetta della nostra auto da questa parte abbiamo anche la sferetta che ha sicuramente una rotazione importante e qua abbiamo invece una rotellina questa rotellina viene ad essere girata per far sì che la sfera vada ad essere più morbida come potete osservare decisamente più morbida oppure ad essere più chiusa quindi ad avere un movimento meno fluido quindi dopo che l'avete tranquillamente messa nella vostra bocchetta andate a chiuderla oppure prima andate a chiuderla per la posizione che più pensate sia opportuna e avrete il vostro dispositivo da dover inserire e il supporto rimane tranquillamente fermo perché anch'io nelle mie prove sia con bocchette verticali che orizzontali ho visto che comunque il supporto regge tranquillamente sia le buche che i dossi senza problemi rimane ben saldo soprattutto il telefono al suo interno rimane veramente veramente bloccato quindi anche se è leggero ed è costituito soprattutto di plastica però comunque di una buona plastica di un buon materiale regge veramente benissimo quello e fa bene il suo lavoro ecco come si può dire in materia da questa parte invece abbiamo il just mobile però lalu charge è un caricatore un caricatore di altissima qualità per quanto riguarda i materiali perché anche se questa parte in plastica tutto il resto del corpo è in alluminio gli da sicuramente maggior peso però fa sì che anche rimanga più stabile dove lo mettiate perché i classici caricatori della concorrenza hanno totalmente un corpo in plastica quindi facilmente innanzitutto da rompere però anche da spostare con un piccolo colpo questo caso il just mobile ha un peso invece più considerevole quindi rimane maggiormente fermo in questo caso abbiamo anche il suo cavo perché si alimentato ma non completamente a muro quindi da rimanere attaccato al muro ma questa prolunga da dover ovviamente inserire qua per l'alimentazione e può dare per ogni porta ben 2.4 a quindi può ricaricare qualsiasi prodotto dal telefono all'ipad alle fotocamere al giochino della nintendo al nintendo game boy qualsiasi cosa veramente vogliate ricaricare anche questo laccio molto carino per poter portarlo legato con sé mettiamolo da questa parte andiamo a quello più diciamo che ha meno caratteristiche più semplice ma rispetto al predecessore è un pochino più una linea più stilizzata più futuristica la cosa che mi piace di più è questa sua semplicità che si è resa rispetto al predecessore in questo caso ho scartato e vi ho già montato la parte nera perché vi è anche quella in alluminio ovviamente grigio cosa c'è di bello di bello è che decisivamente più fine ora noterete questa stecca un pochino più morbida perché l'ho montato a mano in realtà andrebbe stretta per bene qui ci avete la vita andrebbe stretta per bene con il cacciavite però poi tutto il resto si monta tranquillamente a mano vi è questo dischetto che serve a tenere la cuffia salda anche quando gli darete un colpo perché attraverso questo ovviamente sarà un po difficile saltarlo poi avete la parte questa qui che si va a svitare e dovete inserire questa stecchetta orizzontale allora che dire è più bello è più semplice più caratteristico bellissima la colorazione nera ma vi è un difetto il difetto cardine è quello che il suo predecessore aveva anche un altro disco qua al di sotto quindi leggermente spaziato c'era proprio un altro dischetto quest'altro dischetto dava modo di ottenere questo buchetto per cui quando noi avevamo le cuffie con il cavo le cuffie scendendo il cavo noi potevamo arrotolarlo al suo interno e quindi andarlo a nascondere o anche semplicemente toglierlo e andarlo a girare intorno in questo caso invece non c'è alcuna possibilità di andare a legare il cavo completamente se non direttamente sul gancetto quindi va un po meno a scomparire forse esteticamente meno carino ecco questa è forse l'unica caratteristica negativa di questo supporto che comunque invece porta con sé uno stile e un design decisamente più minimale e molto molto più carino anche questo ovviamente costituito in alluminio molto molto bello al tatto ma anche alla vista un po come tutti i prodotti just mobile che sono prodotti eleganti sono prodotti veramente funzionali ad un ottimo ottimo prezzo quindi ricapitolando abbiamo un supporto per auto il vent abbiamo il caricatore alu charge costituito in alluminio e anche il head stand avant quindi un nuovo upgrade rispetto a quello precedente costituito anch'esso ovviamente in alluminio con questo ragazzi vi lascio e vi rimando alla prossima video recensione un saluto da solo